Ciao ragazze! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Siamo emozionatissimi per fare questo video, mio amore, perché lo stiamo preparando da un sacco di tempo e il mio amore è tutto emozionato, ragazzi. Vi giuro, io penso che tu dovessi fare lo youtuber, faresti uscire un video al mese, perché stai preparato da un mese questo video, amore. Bene, mio amore, però siamo veramente emozionati nel fare questo video. Torniamo seri, perché vi dobbiamo fare una comunicazione, un annuncio, finalmente una nostra bella sorpresa per voi, una bella novità. Oggi è un giorno molto importante. Ok, adesso inizia il discorso. Siamo qui per presentarvi la new entry del Carlita Show. Yeee! La nuova... Ragazzi, siete molti, la nuova scatola! Yeee, Natalizia! Ovviamente non si vedrà nulla, perché non si vede mai nulla, non si vede mai nulla dalla telecamera. Questa è la scatola. Allora, qua qua diventa la scatola di Natale, facendo questo Merry Christmas. Merry Christmas. E poi qua ci sono scritte tutte le nostre case e dietro anche c'è la casa. È una scatola bellissima. Pensate ragazzi, questa scatola di Natale la stiamo progettando dal Natale scorso, cioè incredibile. Per esempio i biblici che ci vogliono, ci sta il nostro sangue su questa scatola, veramente. Sì, è stato augurato ai miei dettagli. Merry Christmas, fa vedere anche tutte le altre cose. Vi verrà consegnata a casa con tanti cioccolantini! Adesso vi faremo vedere come arriverà a casa vostra questa scatola. Esatto, facciamo vedere. Amore, però il video dovrebbe durare massimo 10 minuti, se no ci ammazzucà. Ragazzi, nel frattempo vi dico la cosa più importante di tutte, che so che è l'unica cosa che davvero mi importa. Sconto da adesso e poi! Codice sconto per voi! Tutto scontato e il codice è Buon Natale. Quando fate l'ordine, inserite questo codice, dove c'è questo codice cupono, Buon Natale, e vi scala 15% di sconto su tutto. Vi dico ragazzi che vale solo per pochi giorni, non vi dico quanto, due, tre, quattro giorni, ma pochi. Quindi affrettatevi e soprattutto ragazze, importantissimo, ordinate adesso, non aspettate domani, domani, settimana prossima, perché poi rischiate che non vi arrivi, considerate che noi abbiamo un'affluenza incredibile. Fortunatamente riceviamo migliaia di ordini ogni giorno e soprattutto poi rischiate magari che non vi arriva. Arriba dopo. Fateci vivere anche noi tranquilli ragazzi, ordinate adesso, domani, insomma, ordinate in questi giorni davvero, così siamo sicuri che vi arriva un bel pacco, poi cioccolatini, approfittate dello sconto e siamo tutti più tranquilli. Questa carta dorata, non l'hanno vista bene. Mantieni lo scatolo. Vai, io mi metto a fare i passi. Allora, mettiamo, ma voi dovete sapere ragazzi che dietro ogni cosa, anche per trovare questa carta dorata, io ci ho messo tipo un mese, è bellissima. Poi metteremo anche la carta rossa, poi metteremo anche i corialli, i rossi, sì, e poi pure lanciate dappertutto. Arriba a casa volta così. Oh, che bello. E poi infine i cioccolatini. Vai amore, questi ragioncini. Oh mio Dio, ragazzi, poi sono belli, tutti i tabbo natali, bellissimi. Natalizzi, siamo cioccolatini natalizzi. I cioccolatini è l'unica cosa che ha trovato Dario, perché le cose di mangiare sono più specializzate. No, lo scatolo lo devo io a farlo. Amore, questi qua li devo assaggiare, perché devo vedere se sono buoni, no ragazzi? Oh, che bello, guardate che bella scatola. E poi infine la cartolina. Ah, ragazzi, la cartolina. Per questa cartolina ringraziamo il mio grafico e fotografo, Armando Lapietra. Avevo dimenticato il nome di Armando, ma Ciro quando ci vede Armando, guarda che capolavoro. Vai Armando. E ovviamente da vicino non si vede, però è bellissima. E praticamente questa foto me l'ha scattata, lui è stupenda, tutta natalizia. E appunto abbiamo scritto dietro buone feste, quindi riceverete anche la mitica cartolina natalizia. E poi ci saranno i nostri collaboratori che faranno in scatola. E certo, ovviamente noi ringraziamo tutto lo staff Carlita Shop, perché sono fantastici. I nostri ragazzi fanno migliaia di pacchi ogni giorno, bellissimi. E ovviamente adesso riceverete tutte queste meraviglie. Perciò, ragazzi, approfittate a fare regale alle vostre fidanzate. Riceverete anche i pupi. Perché risulta all'albero un pacco così. Pupi è mamma, amore di mamma. No, pupi è no, cioè non la diamo a nessuno. Arriverà il pacco a casa così. Sì, così. Ragazzi, ma la cosa più importante, amore, non l'abbiamo fatta vedere. Eccola qua. Sì. Sono ancora disponibili pochi, perché stanno andando a ruba. I gioielli, Carlita, Jewelry. Infatti, amore, aprilo. Infatti adesso indosso il concreto rosso, ragazzi, adoro. Collana, bracciale e orecchini. Mi stanno piacendo un sacco noi i gioielli. Vi dobbiamo ringraziare, vero amore? Ci date tanta soddisfazione, ragazzi. Questa è la nuova scatola che abbiamo fatto. Già ve l'ho fatta vedere nel video dei gioielli. È rosa ed è bellissima. E dentro ci sono i gioielli. Ma abbiamo, amore, che l'apri a fare? Vuoi far vedere cosa c'è? Vai. Comunque io ve li consiglio il corno bianco, il corno rosso, la collana con le sede lunghe, la medaglia. Comunque venite a vedere tutti i nuovi gioielli su caritashop.com. Pacco, pacco, pacco. Vai. Pacco, pacco, pacco. Il contro, pacco. No, questo è il vero pacco. Ah, è una bella collana. C'è la collana. Questa è la collana Summer Vibes. Si vede? Eccola. Questa è la collana Summer Vibes. Quella tutta sbillucciposa. C'è anche il bracciale e la cavigliera. Adoro, ragazze. E poi, Manu, mantieni tu a pubblico così ti riempi di pelle che sei tutto nero. No, pubblico di pelle. Guarda qua. O riempi di pelle. Guarda qua. 5 secondi. Vieni. Questa? Vieni. Questa? Vieni. Grazie. Con tutti i ragazzi. Dai, ragazzi, approfittatevi. Aspetta, non è. Grazie, vi consigliamo quindi di approfittare del codice sconto Buon Natale e di fare super rifornimenti su caritashop.com e sia per rifornimenti di cosmetici, sia regali, sia fatevi regalare queste cose fidanzati. Dai ragazzi, approfittatevi. Io lo so che piacciono le vostre fidanzate. Ma di cosa non pensate? Cosa devo fare un po' su caritashop? Infatti, e vi dico di più, c'è la sezione ho creato regali. Nella sezione regali su caritashop.com trovate tante idee, tra cui queste confezioni per tutte le tasche più economiche, più costose, quello che volete. Tutte e quale, voi dipendono tutte e quale. Queste sono le maschere viso, sono troppo carine. Poi ci sono queste qua che sono le mini taglie dei cofanetti. Eccoli qua che sono bellissime. Sopra si può scrivere anche il nome della persona. Poi abbiamo inserito queste grandi che sono stupende, amore, falle vedere. E' sempre la stessa cosa, potete mettere il nome. Potete mettere il nome, c'è la renna, ci sono tante idee, diche, tante frasi carine. Insomma, secondo me è proprio bellissimo come idea regalo. Poi ragazzi, c'è questo che è troppo carino, che è un set da viaggio con tutte le mini taglie, si chiama Itaca, ed è bellissimo. Ah, bello. Sono anche tutti i cofanetti, dottor organico, questi anche sono bellissimi e a voi piacciono tantissimo. Bava di lumaca, quello al cocco, quello alla rosa e vi straconsiglio anche quello alla canapa. Che io adesso al momento non ho, ma è buonissimo alla canapa. Vai. Ho fatto un pacco. Vai. Chi lo riceverà questo pacco? Merry Christmas. Ragazzi, quindi, buon Natale. Soprattutto buono shopping su caritashop.com. Grazie, grazie, grazie da Carlita Dare e da tutto lo staff Carlita Shop, che vi abbiamo detto sono fantastici. Siamo una squadra fantastica. Siamo una squadra fantastica. Piena di gente fantastica. Comunque ragazzi, approfittate tantissimo del codice sconto buon Natale. Fateci esplodere lo shop online, gioielli, rifornimenti. Prendete anche con questo codice, approfittate e prendetevi anche i rifornimenti. Che so, vi sta finendo lo shampoo, vi sta finendo il bagno schiuma. Vi conviene perché risparmiate. Ragazzi, noi siamo felicissimi perché grazie a voi abbiamo tante soddisfazioni. Ogni volta leggere tutti i vostri ordini ogni giorno è veramente una soddisfazione grande per voi. Per noi, cos'altro dirvi? Mi sono emozionata, sono troppo felice. E diteci se vi piace la scatola, ragazzi. Ah, sì ragazzi, vi prego, perché non sapete quanti litigia abbiamo fatto per avere questa scatola, altre cose, però alla fine siamo tutti fatti. Io sono più disfatta. E da mesi che ci lavoriamo a questa situazione del Natale, le carte, i cioccolatini, la scatola, la cartolina. E finalmente ce l'abbiamo fatta, quindi siamo felici. Da oggi in poi, tutti... E poi la cosa più bella, i cioccolatini, madonna, anche voi, so che vi piace riceverli, quindi per Natale li mettiamo. Ragazzi, mi raccomando, quindi da adesso in poi, adesso che avete finito il video, catapultatevi su caritashop.com perché tutti gli ordini che arrivano da adesso riceveranno appunto la scatola di Catale, i cartoni di cioccolatini, tutto quello che vi abbiamo fatto vedere. Ok, quindi questo è tutto, ragazzi, vi mando ancora un bacio. Ciao! Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. sapete che fino alla nostra partenza farò sempre un video al giorno dal lunedì al venerdì. Mua! Merry Christmas! Oh, 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 porterò io... Ti va! Ti sono un bambolo natale. Ti amore, se ti fai la barba bianca, secondo me... Ma è il 24, ragazzi, che vi consegno io, ma tu stai dormendo. Ragazzi, ma non è bellissimo, mio amore? Ma vuol direci bella. E io? E tu sei bella. Io sono bellissimo. Sì, super bella. Io sono stupenda. Ciao, family! Ciao! Buon Natale! Sorridete perché la vita è meravigliosa! Ciao! 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 Ciao!